Ciao a tutti, per la rubrica delle ricette vegane, vegetariane e vegane, voglio presentare qua una ricetta di Elena. Ricetta di Elena, la minestra d'orzo. Allora, che è molto buona, vediamo, gli ingredienti per quattro persone. Sono 300 grammi di orzo perlato, due carote, due patate, una cipolla, una zucchina, quattro coste di sedano, un mazzetto di prezzemolo, due litri di brodo vegetale e olio d'oliva. Questi sono gli ingredienti per quattro persone. Adesso vediamo la preparazione. Allora, in una pentola mettete tutte le verdure tagliate a fettine e a pezzetti piccoli. Dopodiché coprite con il brodo vegetale. Quando il brodo arriva all'ebollizione, versate l'orzo e fate cuocere per 40 minuti. Quindi i tempi di cottura, che sono fondamentali, sono 40 minuti. Poi condire con un filo d'olio crudo, perché è più leggero. E quindi avrete realizzato questa spettacolare minestra d'orzo. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete con i vostri amici. Ciao! Ciao!